Nel video di oggi vorrei parlare di un filmato presente su YouTube nel quale, durante un'intervista televisiva condotta da Omar B, un presentatore, conduttore e showman toscano, sembra comparire all'improvviso il fantasma di una misteriosa ragazza. Ora, io personalmente sono una di quelle persone che crede nella possibile esistenza dei fantasmi e nella possibilità che possano manifestarsi ai nostri occhi, tuttavia non sono convinto della genuinità di questo filmato. Il sospetto nasce dallo strano comportamento assunto sia dal fantasma che dall'area circostante durante il suo avanzamento nel corridoio. Come si può notare dal filmato, la misteriosa figura tende improvvisamente a sfocarsi, cambiando leggermente di forma, mentre la zona circostante improvvisamente cambia di luminosità. Questo particolare mi porta a pensare che per ottenere l'effetto sia stata sfruttata una tecnica molto usata nella realizzazione di false foto di fantasmi, che consiste nel posizionare un pannello di vetro o di plexiglass tra l'obiettivo della videocamera e lo sfondo della scena che viene ripresa. In questo modo è possibile far comparire sullo sfondo che viene ripreso il riflesso semitrasparente di un oggetto o di una persona posta in un altro punto della scena. Purtroppo io non ho le conoscenze sufficienti a determinare se ciò che ho appena detto corrisponda a verità, quindi spero che qualcuno più competente di me possa in qualche modo darmi delle delucidazioni su quelle che ci tengo a precisare, rimangono solo delle mie osservazioni personali. Bene, detto questo non mi rimane che ringraziarti per aver visionato questo video e ti aspetto nel prossimo dove come sempre affronteremo un nuovo mistero. Quindi grazie ancora e ti aspetto nel prossimo video. Grazie a tutti.